Agricoltura di qualità in Toscana significa investire nei territori, garantire la qualità dei prodotti e delle filiere, da quella dell'olio a quella del vino, fino alla zootecnia e all'ortofrutta, ma anche innovazione, sicurezza e salvaguardia del paesaggio, di cui gli stessi agricoltori sono custodi grazie al loro lavoro. Ma quali sono le priorità della Toscana in materia di agricoltura? Le priorità sono sempre quelle di stare vicino ai nostri agricoltori, supportarli in quelle che sono le iniziative di promozione dei nostri prodotti e fare in modo di poter far crescere le varie filiere. Quando parlo di filiere parlo della filiera vitivinicola, parlo della filiera olivicola, parlo della filiera del settore lattiero caseario, parlo della filiera cerealicola, che sono tutti aspetti che sono fondamentali per la nostra economia agricola. Lo dico perché per fare questo c'è necessità di creare maggiori sinergie e fare in modo che le istituzioni si rapportino di più con il mondo dell'agricoltura e cerchino di trovare quelle soluzioni che servono diciamo a rendere le nostre aziende più sfidanti rispetto ai mercati. Mercati anche esteri perché l'agricoltura toscana, grazie ai suoi numerosi prodotti DOP a denominazione di origine protetta e IGP a indicazione geografica protetta, è conosciuta e ricercata in tutto il mondo. Una garanzia di qualità grazie alla quale si stanno affacciando sul mercato sempre più prodotti. La Toscana è conosciuta a livello mondiale per la qualità dell'olio. L'olio, anche se non abbiamo quantità enormi, è di grandissima qualità. Il vino, la nostra locomotiva, tutta la filiera vitivinicola è sicuramente molto molto rilevante, ma altrettanto si potrebbe dire per quello che riguarda l'aspetto della zootecnia, quindi sia carne che latte, prodotti del settore lattiero caseari, quindi non solo bovini ma anche ovini e caprini e poi tutta la filiera della ceralicultura. Sta prendendo campo, devo dire con grande forza, anche per esempio l'ortofrutta. Su questo credo che abbiamo possibilità di crescere e di migliorarsi. Intanto, per assicurare il massimo livello di qualità ai suoi prodotti, che si tratti di frutta, ortaggi o prodotti lavorati e finiti, la Toscana ha come priorità la tracciabilità. In altre parole, il consumatore finale deve essere in grado di conoscere tutto ciò che acquista e mette in tavola. Abbiamo la necessità di mettere insieme chi fa produzione primaria, chi questi prodotti li trasforma e poi li porta e li colloca sui mercati. L'aspetto della etichettatura e della tracciabilità è fondamentale. Noi che siamo anche consumatori dobbiamo avere la certezza che quando si prende un prodotto, sull'etichetta possiamo vedere non solo dove viene lavorato e trasformato, ma da dove proviene la materia prima. Non è sufficiente sapere, per dire, paesi estracee, pure comunità europea oppure Italia stessa. Dobbiamo sapere una identificazione migliore e capire se il prodotto è la materia prima, per esempio nel caso nostro sono toscane. E quindi stabilire un rapporto fra il consumatore, un territorio e un produttore, perché spesso nella qualità delle produzioni non c'è solo la qualità del prodotto in sé per sé, dietro c'è una storia, una cultura, un sapere di un territorio che è identificativo di una comunità più grande, che lega quel territorio, lega il privato con le istituzioni, con, ripeto, un modo di fare e di essere. Una strategia vincente in Toscana si è rivelata quella dei mercati degli agricoltori o di filiera corta che si tengono a cadenza regolare in tutta la regione. È qui che i consumatori e i produttori si incontrano e stabiliscono un legame di fiducia che dura nel tempo e che spesso, parola di chi nei mercati ci lavora, tra i colori dei frutti rigorosamente di stagione e i profumi di miele e formaggi, sfocia quasi in un legame di amicizia, una strategia che prosegue nel 2019. Questo credo che sia una grandissima opportunità i mercatali. Noi quest'anno, nel 2019, faremo per la prima volta il Buy Food, un'iniziativa che vuole proprio rafforzare le aziende agricole, quelle del settore agroalimentare, specialmente quelle più piccole. Un modo di crescita su questo tipo di aspetto. Devo dire che frequentando un po' i mercati contadini, questi mercatali, sono molto più funzionali rispetto a prima. Si vede che il consumatore finale stabilisce un rapporto diretto con l'agricoltore, lo individua, sa cosa produce, sa dov'è, sa quali prodotti utilizza per quel tipo di produzione agroalimentare e questo, secondo me, è molto, molto importante. E tra gli obiettivi della Regione per il 2019 c'è anche quello di portare i prodotti agricoli e i cibi di qualità sulle tavole delle mense, a partire da quelle delle scuole per tutelare la salute di chi quei prodotti li consuma, oltre che per educare al gusto e alla corretta alimentazione. Porteremo la modifica sia di una legge che di un regolamento per quello che riguarda le mense. Ecco, noi vorremmo, facendo un patto con i comuni, mano a mano che vanno a scadenza, diciamo, l'affidamento delle mense, inserire nell'ambito delle mense non solo le produzioni a denominazione di origine, certificate, che possono essere le nostre DOP o IGP, ne abbiamo ben 31 in Toscana, quindi un numero rilevante, ma tutta quella serie di altre produzioni che possono essere tracciate e certificate come produzioni di qualità e vorremmo fare in modo che a partire dalla pasta, dal pane, dall'olio, dai latticini, dalla carne in generale, dall'ortofrutta che possiamo fare perché non ci manca veramente niente, vada nelle mense scolastiche produzioni che vengono fatte in Toscana. Questo vorrebbe dire dare più forza la nostra economia, dare più sviluppo a queste imprese che devono produrre una reddittività per poter reinvestire, innovare, per essere pronti alle sfide dei mercati globali e al tempo stesso creare un rapporto culturale, un'educazione al gusto, un'educazione al cibo a partire dai ragazzi, magari dalle materne, dalle elementari, dalle medie, alle scuole superiori. La qualità dell'agricoltura e dei prodotti agricoli toscani è garantita poi anche dai fondi europei che vengono investiti nei territori e per i quali ora si guarda alla nuova programmazione oltre il 2020. Finisce questa programmazione ma già partirà la programmazione del 2021-2027 alla quale peraltro stiamo lavorando insieme alle organizzazioni professionali con la Commissione europea per creare le basi per poter continuare a investire nell'agricoltura e nello sviluppo rurale e in un rapporto stretto con l'innovazione e quindi con tutto il mondo accademico perché la nostra agricoltura ha bisogno appunto di ricambio generazionale, ha bisogno di innovazione, ha bisogno chiaramente di poter avere strumenti che siano adatti e molto più flessibili di una volta per poter, diciamo così, confrontarsi con le sfide mondiali. Sfide che gli agricoltori toscani hanno preso molto sul serio per tenere alto il nome della Toscana nel mondo. È qui che si gioca il futuro dell'agricoltura ma anche dell'ambiente e della sua tenuta. Noi ci chiamiamo Toscana e la Toscana è un brand che a livello mondiale è molto conosciuto specialmente nel settore agroalimentare è sinonimo di grande qualità. Ecco, non possiamo tradire questo mandato che abbiamo. Poi dobbiamo assistere gli agricoltori perché i problemi ci sono. Basti pensare ai cambiamenti climatici, basta pensare, voglio dire, alle predazioni per quello che riguarda gli allevamenti, basta pensare per dire ai danni degli ungulati che producono all'agricoltura. Stiamo lavorando anche su questo fronte, stiamo ottenendo qualche risultato timido ma abbiamo necessità di andare avanti. Non possiamo abbandonare i nostri agricoltori perché sono l'emblema di questa Toscana, perché queste sono le persone che stanno nei nostri territori collinari e montani, sono quelle le sentinelle dei nostri territori, quelle che modellano il nostro paesaggio, sono le persone che hanno creato questa splendida visione d'insieme della Toscana e che fanno anche un'azione di salvaguardia per quello che riguarda l'aspetto idrogeologico. Tutto questo è agricoltura e anche molto molto altro di più e di questo noi siamo da una parte gelosi, dall'altra preoccupati, ma dall'altra ancora molto fiduciosi che continuando a investire si possono creare aziende forti, sane e che abbiano delle prospettive.